Il processo con rito abbreviato a carico di Giampietro Gilberti, 53 anni, disoccupato di Castelvetro Piacentino, che la notte del 26 settembre del 2013 ha soffocato Cinzia Agnoletti, la sua compagna da tanti anni, nonché madre dei suoi figli, si è concluso oggi a Piacenza. 16 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato, niente attenuanti generiche e 100.000 euro di risarcimento, 50.000 alla testa, per la madre e il fratello della vittima 51enne. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Giuseppe Bersani, mentre il PM Antonio Colonna aveva chiesto 15 anni e 4 mesi. I fatti risalgono al settembre dell'anno scorso, quando una lite per una maniglia rotta fece esplodere la violenza in quella casa piacentina. L'uomo esasperato e senza lavoro da tempo, sentitosi insultato, cominciò a colpirla con pugni e calci, poi la strangolò con la fettuccia di una tapparella e infine le infilò un sacchetto di plastica sul volto. Poi lo stesso Gilberti tentò di togliersi la vita, senza riuscirci, con lo stesso sacchetto di plastica. Un raptus, non sono riuscito a fermarmi, non ce l'ho fatta, aveva detto il 53enne piacentino sorpreso dal figlio nella loro casa, mentre cercava di togliersi la vita. Poi aveva reso un'ampia confessione, nella quale aveva spiegato di aver perso il controllo in seguito all'ennesima lite con la convivente, nata per motivi economici.